Gli uomini della polizia del commissariato di Urbino hanno effettuato all'inizio di questa settimana alcuni controlli sulla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti tra gli studenti degli istituti scolastici superiori, controllando autobus, luoghi vicino alle scuole e di aggregazione come bar, centri commerciali e fermate dei bus. Il controllo messo in atto è stato effettuato grazie alla collaborazione dell'unità cinofila della Questura di Ancona. Durante le ispezioni i poliziotti hanno rinvenuto un piccolo quantitativo di hashish, due sigarette contenenti marijuana e materiale per il confezionamento all'interno di un autobus che evidentemente qualche passeggero alla vista degli agenti aveva abbandonato sul veicolo pubblico. Queste ed altre verifiche verranno ripetute nel corso dell'anno scolastico in collaborazione con i responsabili degli istituti scolastici del territorio, con i quali è stata avviata un'importante sinergia finalizzata a contrastare l'utilizzo delle droghe da parte degli studenti. Inoltre il personale del commissariato di polizia di Urbino controllerà e verificerà eventuali fenomeni di bullismo all'interno degli autobus che portano gli studenti sia a scuola che alle loro abitazioni.